Stavio e Olio, Marilyn Morro e Marlon Brando. Siamo nella provincia pavese, là dove l'agricoltura incontra l'arte all'insegna della multifunzionalità. Buongiorno, siamo a Valle Lomellina, provincia di Pavia. Siamo nell'agriturismo e il cinema. Era un ex cinema teatro di famiglia appartenente a Marucchi, mio nonno Luigi. Ha funzionato come cinematografo e teatro di avanspettacolo dal 1948 al 1975. Dopodiché avevamo questo immobile da destinare all'azienda, un'azienda agricola che produce riso, mais. E poi, avendo questo tipo di immobile particolare, abbiamo pensato di destinarlo ad un agriturismo. 90 coperti per mangiare in un vero e proprio museo del cinema della metà del Novecento. Il cibo servito è fatto con materie prime provenienti in parte dall'azienda agricola di Andrea Marucchi, in parte dalle imprese agricole limitrofe. Tra i piatti forti del menù, naturalmente, il riso, prodotto dalla pileria installata all'interno dell'azienda Marucchi. Noi abbiamo cercato di riproporre quello che è il passato dell'edificio, mantenendo innanzitutto l'intera struttura, non andando a modificare quello che era il ricordo e l'immagine strutturale del tè dell'epoca. Abbiamo mantenuto il vecchio proiettore della sala di proiezione, insieme alle bobine, agli amplificatori, alle poltrone. Insomma, cercando di ricordare un po' quelle che sono le locandine dei film trasmessi, dell'epoca, che sono originali, rigorosamente. I mattoni sono stati tenuti esterni, quelli che erano della ex vecchia ghiacciaia del paese, e sono stati tenuti come struttura esterna. Abbiamo mantenuto quello che è l'immagine del palco, quello che era il teatro di avanspettacolo dell'epoca. Abbiamo cercato di mantenere il più possibile quello che era la caratteristica del 1948.